Ieri il suo sfidante ha detto che non esclude di avere Novax in giunta, poi diciamo dice no ma è una strumentalizzazione della sinistra insomma. No, una strumentazione della sinistra come ha scritto. Non so adesso non sto a commentare, diciamo io non ne avrei di Novax in giunta, dopodiché lui è libero di fare quello che vuole. Non lo commento, io direi proprio di no.